Ciao, namaste e ben arrivati a questo nuovo video di pratica yoga insieme. In questo video faremo una breve pratica completa, ma la particolarità è che il titolo del video lo sceglierai te o meglio. Si tratta di un piccolo stratagemma che ho deciso di fare per questo video particolare, al fine che tu, che chiunque che arrivi su questo video, possa portare massima attenzione alle proprie sensazioni e capire attraverso la pratica che faremo insieme cosa e dove ti vuole portare questa pratica. E da lì potrai quindi lasciarmi nei commenti il tuo suggerimento, quindi secondo te che cosa stiamo lavorando, su che cosa faremo, le tue sensazioni, quello che sentirai e quindi quale secondo te potrebbe essere il titolo di questa pratica insieme. Il titolo più adeguato, che troverò quindi nei commenti, andrà poi a chiamare questa pratica. Quindi nei primi mesi in cui il video sarà online avrà un titolo un pochino particolare, proprio perché dovrete sceglierlo voi e poi quando arriverà nei commenti il commento più adeguato per il titolo più giusto, verrà scelto quello, io cambierò proprio il titolo del video in base ai vostri commenti. Quindi mi raccomando e cominciamo subito cercando, mi raccomando, di portare estrema attenzione alle vostre sensazioni. Solo così potrete capire il titolo del video e quindi capire su cosa sostanzialmente stiamo lavorando. Quindi ci portiamo in piedi, molto bene, all'inizio del nostro tappetino, al centro, come mi sono predisposta io, ruotiamo bene indietro le spalle, andiamo a sistemare bene i piedi alla distanza delle anche. La posizione retta, quella che nello yoga si chiama Tadasana, sembra una posizione scontata, ma nel momento in cui ci mettiamo in piedi con un pochino più di attenzione e coscienza, non è scontata per nulla. Cerchiamo infatti di sentire bene come distribuiamo il peso del nostro corpo sui piedi a terra. Quindi cerchiamo veramente di distribuire per bene 50% sulla pianta del piede destro e 50% sulla pianta del piede sinistro. Magari chiudi gli occhi per ascoltare meglio questa distribuzione del tuo peso sulla pianta dei tuoi piedi. Ruota indietro le spalle e cerca di mantenere il viso, la testa, leggera sul tuo collo. Per fare questo, nello yoga come riferimento, diamo il mento che rimane sempre, quasi sempre, parallelo alla terra. Quindi mento parallelo alla terra. Invece di scendere con la testa, magari spingi un pochino il mento indietro, come se volessi fare una sorta di doppio mento. Ora rilassa i muscoli del viso, in particolar modo rilassa la mascella. Per fare questo puoi aprire e chiudere la bocca due o tre volte. Oppure umidificare con la lingua le tue labbra. Dopo che avrai fatto queste azioni, dovresti sentire e percepire le tue labbra leggermente dischiuse, distaccate l'una dall'altra. In ultimo, porta per un attimo l'attenzione alla tua colonna vertebrale e cerca di sentirla bella perpendicolare rispetto al tuo tappetino. Per fare questo, spingi un pochino il cogito, se vuoi l'osso sacro, un po' in avanti. Sentirai la fascia bassa del tuo ventre spinta indietro, come abbassarsi un pochino, ritrarsi un pochino. E immediatamente la zona toracica aprirsi un pochino di più insieme alle clavicole e alle spalle. Ed è questa la postura corretta che vogliamo in Tadasana. Bene. Una volta trovati questi allineamenti, andiamo ad aprire gli occhi e cominciamo con un esercizio di pranayama, molto semplice, che si chiama la bilancia verticale. Porterai le tue braccia distese in avanti, mi rigiro di profilo per farti vedere meglio, in linea con le spalle. I palmi delle mani si guardano tra di loro. Ispirando, porterai il braccio destro verso l'alto e il sinistro verso il basso. E in questa ispirazione permetti anche al tuo corpo di inarcarsi leggermente. Puoi guardare leggermente verso l'alto, come se ci fosse una linea obliqua che dal naso va verso il soffitto. Ispirando, ritorna con la colonna ben dritta ai palmi delle mani che si guardano tra di loro. Quindi, ispirando, cambierai il braccio. Se prima eri andato su con il braccio sinistro, adesso andiamo su con il braccio destro o viceversa. Alla massimo momento di ispirazione, vai proprio ad inarcare un pochino il corpo. Senti proprio il corpo aprirsi. Ed ispirando, ricompattiamo tutto e ritorniamo con le braccia all'altezza delle spalle. Andiamo insieme ancora per quattro respiri in questa maniera. Quindi ispiri. Guarda leggermente verso l'alto. Quando senti il polmone del braccio corrispondente al braccio in alto, che si apre, si riempie d'aria. Ed ispirando, ritorniamo con i polmoni vuoti, con le braccia allungo le nostre spalle. Ancora, ispira. Ispiro. Goditi il movimento d'apertura. Deve essere un piacere la tua pratica. E in questi primi movimenti, in questo esercizio di respirazione con il corpo, lo può essere veramente. Se ti lasci andare, se ti inarchi, quanto preferisci. E senti il corpo aprirsi. Ed ispirando torna al centro. Ancora due volte per lato. Ispira. Ispiro. Inspiri. L'ultima volta. Lato destro. Inspiro. E espiro. Ritorno. Lato sinistro. Inspira. E espira. Ritorna. Ok. Porta per un attimo le braccia allungo ai fianchi. Rilassa le spalle. Chiudi gli occhi. Trova il tuo Tadasana. Quindi cercando di spingere un pochino il sacro in avanti, l'ombelico verso la colonna. Apro le spalle. E dovresti sentire qui già i tuoi polmoni un pochino più aperti. Il tuo respiro è già un pochino più fluido. Inspirando apro gli occhi. Ed espirando comincio a flettere le mie gambe. Andando un pochino indietro con il bacino. Come se mi volessi sedere su una stagna immaginaria. Poggio le mani sulle tue cosce. Mentre scivoli, quindi ti fletti in avanti con il busto e pieghi le gambe, continui ad andare giù. Le gambe, ti faccio vedere lateralmente, sono estremamente flesse. Fino a quando senti il costato in appoggio sulle tue cosce. A questo punto, una volta che siamo arrivati con il busto piegato in avanti, afferriamo con le mani i gomiti opposti. Lasciamo andare la testa verso il basso. E vedi se tante volte riesci a sfiorare con la testa o l'attaccatura dei capelli i tuoi avambracci. Se non ci riesci, non ti preoccupare. Ma cerca proprio di lasciarti andare. Quindi le gambe sono morbide perché non devono distrarti in questa posizione. La sensazione deve essere soprattutto a livello delle spalle e della cervicale che si lasciano andare. Puoi basculare un pochino il peso del tuo corpo sugli amampiedi, ma ripeto, piegate le gambe. Si ha la tendenza generalmente a non volerle piegare, ma in questo uttanasana, questo piegamento in avanti, dove vogliamo dare maggiore attenzione al rilasciamento cervicale, piegate le gambe quanto necessario. Afferri con le mani poi i gomiti opposti, quindi cambi l'aggancio. Stai qui, tre, respiri. Lascia pure dondolare la tasta, rilassati. Puoi fare dei piccoli, no? Dei piccoli sì con la tasta. Molto bene, a questo punto pieghiamo ancora le gambe un pochino di più, allarghiamo di più i nostri piedi, mantenendo le punte dei piedi in avanti e pieghiamo le gambe fino ad accucciarci e ad arrivare in quello che è malasana. Se hai bisogno di mettere un supporto sotto i tuoi talloni, perché magari non arrivano a terra, potresti arrotolare una coperta, quindi prenditi il tuo tempo, metti in pausa il video, prendi una coperta, la arrotoli e la metti sotto i tuoi talloni. Oppure potresti arrotolare un'estremità del tappetino e metterlo sotto i tuoi talloni. fa l'ora, perché poi faremo dei movimenti in questa posizione, quindi è necessario che tu, in un modo o in un altro, riesca a stare in malasana. Bene, quindi una volta che ci saremo accomodati, aggiustando anche la posizione a seconda delle nostre necessità, cerchiamo di portare le braccia all'esterno delle nostre gambe, in questa maniera. con i polpastrelli, la punta dei polpastrelli dei medi che si toccano. Questo sarà l'espiro. Ispirando porterai le braccia verso l'alto e di nuovo i polpastrelli dei medi che si toccano più o meno sopra la tua testa. Dico più o meno perché spesso, a seconda della tua flessibilità a livello miofasciale, in realtà riuscirai a portare le mani o qui davanti oppure un pochino più sulla testa. quello che riuscite a fare, espirando, scendo. Ok, proviamo quattro volte insieme, non è facile ragazzi, lo so, sembra facile ma non lo è. Ispira su, espiro giù, un pochino di impegno ci vuole. Ispiro su, espiro giù, gli ultimi tre, ispira su, espiro giù, gli ultimi due, su, giù. Ispirando, mi raccomando, ispira su, senti tutta la parte dorsale che tira un pochino, espiro giù. Molto bene, ora porta le mani a terra, bascula il peso del tuo corpo un pochino in avanti, in maniera tale da poter piano piano ridistendere le tue gambe, allargarle un pochino e lasciare andare giù. Il busto facendo dei no con la testa, se necessario pieghi prima una gamba e poi l'altra, ma lasciati andare, se le mani arrivano a terra, appoggi il dorso delle mani a terra e sciogli un attimino qui, poi ti fermi un attimo e diamo tre respiri. Ancora un respiro e poi piano piano ci aiutiamo con le mani, ci rigiriamo verso l'avanti del nostro tappetino e ci andiamo a sedere a terra. Molto bene, allora ci sediamo a terra al centro del nostro tappetino, controllate di avere abbastanza spazio dietro perché poi andremo giù con la schiena, quindi cercate di controllare di entrare con la schiena dentro il vostro tappetino, se è dalla posizione da dove vi siete seduti poi andate indietro appunto con il tronco. Portiamo bene i nostri piedi a martello, assicuriamoci di esserci seduti bene sugli ischi, che sono le ossa dei glutei, allunghiamo bene la colonna e andiamo ad afferrare con pollice indice della mano destra l'alluce destro. Molto bene, ispirando stacchi la gamba destra da terra e ruota indietro la spalla destra. Proviamo insieme, ora ispirando comincia ad arrotondare la colonna, quindi guarda verso l'ombelico o mento nella fossetta della gola, ti puoi aiutare anche con la mano sinistra a terra e da qui, continuando ad espirare con il piede sinistro bene a martello e che spinge il più possibile dentro il tuo tappetino, proviamo piano piano a scivolare giù e appoggiare bene la zona occipitale sul tappetino, rientrando il mento. Ora, se quando arrivi a terra questo non è possibile perché appunto non riesci ad agganciare l'alluce, puoi afferrare il polpaccio, oppure ancora potresti mettere un cuscino sotto la testa per alzare un pochino la terra. Ora allunghiamo bene il braccio sinistro lungo il fianco, ispiriamo qui, allunghiamo la spina ed ispirando solleviamo testa e spalle e un pochino anche il braccio sinistro. Se vogliamo andare un pochino più in profondità ti aiuti con il braccio destro e idealmente, se riuscite, per davvero lo fate per davvero, se no solo idealmente, a toccare con il naso il ginocchio sinistro. Espiro, ritorno giù, ispiri qui allungando bene la colonna e rivolgendo il mento verso lo sterno e ora, espirando, ti puoi aiutare con la mano sinistra a terra, oppure fai un bell'espiro, ritorni su e porti giù il piede dove l'avevi preso. Ok, vediamo dall'altro lato, con calma, quindi mi siedo bene sugli eschi, allungo bene la colonna, apro le spalle, pollice indice della mano sinistra che afferano ad un cino l'alluce sinistro. Qui dovreste riuscire più o meno tutti, ma se anche qui avete problemi, afferrate da sotto la caviglia o il polpaccio. Espirando, sollevo la gamba, quindi la stacco un pochino da terra. Espirando, rotolo la colonna, guardo verso l'ombelico, ti puoi aiutare con la mano destra a terra, altrimenti piano piano sorrotoli giù la colonna. Ok, cerca di stendere bene anche la gamba destra con il piede a martello, bene anche la gamba sinistra. Due respiri qui a terra, e poi allunghiamo il braccio destro lungo il fianco, inspiri ed espirando sollevi testa e spalle, sollevi in un'immaginaria diagonale anche il braccio destro. Va bene qui, perfetto, lavorando bene con l'addome, quindi non lavorate con la testa o con la cervicale, ma lavorate spingendo l'ombelico alla colonna. Se vuoi un po' esagerare, ti aiuti, vedete, io piego il braccio sinistro e avvicino il ginocchio al naso. Sto qui per tre, due, uno, ed espirando ritorno giù. Ora, inspiri e con un bel espiro, dovete proprio aiutarvi con l'espiro in maniera tale che possiate attivare l'addome, vai su e ritorni. Allora, so che questa è una transizione che piace spesso. Allora, ripetiamo un attimo solo la transizione, vediamo se riusciamo a capire bene. Afferro con pollice indice la luce destro, inspiro ed espiro, salgo su con la gamba. Inspiri qui, allunghi la spina, espiri, mentre spingi con il tallone sinistro, srotoli giù la colonna. Inspira per bene qui, allunga la spina, espira, attivi l'addome, torni su e porti giù la gamba. Andiamo dall'altro lato, pollice indice sinistro che afferrano l'alluce sinistro. Inspiro ed espiro, stacco la gamba sinistra, inspiro, allungo la spina, espiro a rotondo e vado giù qui. Inspiro, allungo la colonna ed è sulla fase dell'espiro che ritorno su e riporto giù il piede. Bene, fatemi sapere sotto nei commenti se poi siete riusciti in questa transizione che so che piace molto una volta che si riesce. Ci portiamo sul fianco destro, vi do un indizio, qui ci avviciniamo un pochino all'obiettivo di questa pratica, ma poi me lo dovrete dire voi, e mi vado a stendere per bene sul fianco destro. Io preferisco stendermi con il braccio destro disteso, tuttavia potete piegarlo, insomma come state più comodi. Allora, manteniamo pure le gambe un pochino piegate in maniera tale da avere un pochino più di stabilità per il momento. Ispirando sollevi sulla gamba sinistra come se aprissi la pagina di un libro, passi dentro con il braccio sinistro, di nuovo afferri con pollice indice l'alluce del tuo piede sinistro e distendi la gamba sinistra. Ora, la gamba destra è piegata, quindi dovreste avere una buona superficie di appoggio, però cercate di spingere adesso questa gamba destra, la coscia destra, un pochino più indietro, come se volessi mettere il ginocchio destro, quindi della gamba a terra, in linea con il femore. Espirando spingo un pochino, se riesco, la gamba sinistra verso di me. Spingi il sacro in avanti, cerca di sentire l'apertura del linguine sinistro. Stai per 4, 3, 2, 1. Espirando, lascia andare e questa volta, ragazzi, distendiamo le nostre due gambe a terra. Distendo le gambe a terra, ben distese l'una sull'altra e rivolgo le dita della mano sinistra verso il centro del mio sterno. Io preferisco così, se poi state bene in un'altra maniera, con la mano sinistra fate anche in un'altra maniera, non c'è problema, però potete fare così. Vi stendete bene, quindi vi dovete sentire proprio il più possibile sul fianco destro, come se fossimo su un cornicione, quindi distesi su un cornicione. Piedi bene a martello, inspiri ed espirando, sollevi tutte e due le gambe un pochino da terra, quello che riesci. Devi sentire il fianco sinistro fortemente attivo. Ok? Stiamo qui per 4, 3, 2, 1 ed espirando riporto i piedi a terra. Ora ti aiuti con le mani e porti su il tronco, quindi rimaniamo sempre sul fianco destro. Sono salita, mi metto un pochino più al centro, ok? Sono salita soltanto con il busto. Ora cerco di distendere bene le mie gambe con i piedi a martello una sopra l'altro, mi aiuto con le mani e vado a sistemare per bene il polso destro in linea con la spalla destra. Cercate di sistemarvi proprio dentro al tappetino, quindi osservate che anche i vostri piedi rimangano dentro il tappetino. Dici come mai, per quale motivo adesso lo capirete. Puoi rimanere anche qui e la posizione va bene, dovresti sentire qui il fianco sinistro che si strizza un pochino. Altrimenti, aiutandoti anche con la mano sinistra a terra, sollevi il bacino, porti il braccio sinistro lungo il fianco, ruoti per bene la spalla sinistra, se riesci guardi leggermente verso l'alto, quindi l'occhio rivolti verso il tuo soffitto, ispirando il braccio sinistro verso l'alto, espirando il braccio sinistro oltre la testa, senti tutto il fianco sinistro che si allunga, stai per quattro, tre, due, stendi stendi le gambe, un respiro e poi prima riporti il braccio sinistro verso l'alto, poi lungo il fianco, pieghi le gambe e giù. Il fianco destro, ok, trovi la posizione un attimo in gambe incrociate e vai a sciogliere un pochino i polsi. Bene ragazzi, ci siamo, dobbiamo ripetere questa sequenza dall'altro lato, anche perché adesso giustamente sentirete ben attivo tutto il braccio destro e il bicipite destro e quindi dobbiamo ricompensare, ma mi raccomando in questa posizione apice che abbiamo appena fatto cercate di attivare bene tutti i muscoli del corpo. Ok, andiamo, fianco sinistro, quindi stessa breve sequenza, mi allungo sul fianco sinistro, potete piegare o mantenere il braccio allungato, in questa prima fase gambe piegate, stacchi la gamba destra, ti vai a trovare l'aggancio con pollice e indice della mano destra della luce destro e distendo bene qui. Sposto la coscia sinistra e il ginocchio sinistro un pochino più indietro per mettere in linea il ginocchio con il femore. Stai tre e respiri. al limite avvicinati un pochino di più la gamba destra verso il busto se vuoi e poi espirando ritorno e ridistendo le mie gambe. Bene, a questo punto dobbiamo stare sempre abbastanza dentro il tappetino prima di tutto. Stendi bene tutte e due le gambe, sentiti bene sul fianco sinistro, rivolgi le dita della mano destra verso di te, appoggiando per bene il palmo della mano destra a terra e inspirando vado su con entrambe le gambe. Senti il fianco destro che si attiva. Stiamo qui per quattro, tre, due, uno. Porto le gambe a terra, mi aiuto con le mani, salgo su con il tronco e mi metto per bene al centro del tappetino. Sono sul fianco sinistro. Le mie gambe continuano ad essere ben attive con i piedi a martello. Polso sinistro sotto la spalla sinistra, mano destra a terra. Provaci, ma attiva bene tutti i muscoli del corpo. Chi conosce può attivare anche mulband o mulabanda, che dir si voglia. Quindi ispiro, vado su con il bacino, lo spingo proprio, spingo il fianco sinistro il più possibile verso l'alto. Attivo forte le gambe, attivo forte i glutei, trovo l'allineamento del mio corpo, ispirando sul braccio destro. E poi braccio destro oltre la testa, in queste posizioni che devi continuare a respirare nella maniera più fluida possibile, come se stessi in shavasana. stiamo per 4, 3, 2, 1. E poi piano piano, prima il braccio destro verso l'alto, poi lungo il fianco, piego le gambe, riporto delicatamente il gluteo sinistro a terra. Wow! E ci ritroviamo al centro. Di nuovo sciogli i polsi, porta le mani in preghiera, incroci le dita delle mani e vai a fare delle piccole rotazioni qui con i polsi e cambi senso di rotazione. Ok, poi portiamo i palmi delle mani a contatto e facciamo delle rotazioni cercando di non staccare mai le mani tra di loro, sia in un senso di rotazione che nell'altro. Bene, puoi terminare questa breve pratica, anzi ti consiglio vivamente di stenderti a terra, magari in supta badha con asana, ti faccio vedere la posizione della farfalla o del ciabattino e restare qui a sentire un pochino le tue sensazioni con il mento rientrato, oppure ti puoi tranquillamente distendere in shavasana, almeno tre minuti, una delle due posizioni. E una volta che avrai terminato di rilassarti, esci da queste posizioni di rilassamento muovendo prima le parti periferiche del tuo corpo, quindi caviglie, dita dei piedi, dita delle mani, polsi e poi porterai a contatto le piante dei piedi e i palmi delle mani e li strofinerai fortemente tra di loro per riattivare l'energia. Espirando lascerai andare e ritornerai su, magari anche un pochino più lentamente di come ho fatto io, che sto cercando di limitare i tempi per questioni di video. Questa ragazzi è la pratica, aspetti i vostri commenti qui sotto per trovare il titolo a questo video. Ripeto, è un piccolo stratagemma che ho voluto utilizzare per questa pratica al fine di farvi stare un pochino più attenti, o meglio, noi insegnanti di yoga teniamo un pochino ad anticiparvi, poi qui con le modalità online ovviamente voi trovate un video per una determinata cosa e cominciate a fare quella pratica. In questa maniera il mio obiettivo era proprio quello di rendervi un pochino più sensibili e attivi alle vostre sensazioni, ma anche più riattivi e capire voi in prima persona su cosa abbiamo lavorato e com'è stata questa pratica. Quindi aspetti i commenti qui sotto per trovare il titolo a questo video, spero che vi sia piaciuto, ci rivediamo presto sul nostro tappetino. Namaste!